Ok, che il violino sia uno strumento molto difficile da suonare, questo più o meno lo sanno tutti. Che molte aree del repertorio lirico siano di grande virtuosismo e non siano certo a portata di tutti, è di dominio pubblico. Ma il direttore esattamente a cosa serve? Perché abbiamo questi osannati e ben ritribuiti professionisti dall'ego smisurato, il cui nome nelle locandine spesso è scritto più in grande di quanto non sia scritto il nome dei compositori, della musica che eseguiranno? A che cosa serve il direttore? È la madre di tutte le domande. Insieme a... Il direttore sa suonare tutti gli stupi musici, non hanno davanti lo sparticolo, ma a cosa serve il direttore? Cerchiamo in pochi, pochissimi minuti di fare chiarezza. Cominciamo a dire che come figura professionale il direttore d'orchestra è abbastanza recente. Vi sono alcune figure di direttore già dal Settecento, ma nel complesso la figura professionale del direttore d'orchestra si sviluppa a partire dall'Ottocento. Prima il direttore non c'era. Perché non c'era? In alcuni casi veniva abbattuto una specie di bastone per terra per mantenere il tempo. E qui la storia ci riporta la triste vicenda di Jean-Baptiste Lully, che poi era Jean-Baptiste Lully, era italiano, ma va bene, è stato francesizzato, che picchiando questo bastone per terra per tenere il tempo, se lo diede sul piede, il piede andò in cancrena, e lui lì morì. Fa anche rima. In altri casi la figura del direttore non era necessaria perché l'organico era abbastanza ridotto, e quindi i musicisti, ascoltandosi e guardandosi a vicenda, erano tranquillamente in grado di andare insieme a tempo. Invece con l'allargarsi degli organici orchestrali, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, la figura è diventata assolutamente imprescindibile. Ci vuole, insomma, una persona che coordini, che si prenda la responsabilità interpretativa dell'esecuzione e che faccia andare tutti insieme. Oggi non ci sono più i bastoni come i tempi di Lully, ma si usa la bacchetta. Non c'è stata una sola figura di, come dire, di direttore d'orchestra moderno, ma possiamo forse individuare in Hector Berlioz, che è stato anche un grandissimo compositore, la prima figura di direttore d'orchestra moderno. Non fosse altro perché ha stabilito due capisadi della direzione, cioè il fatto, intanzitutto, che si dirige in piedi e non seduti come accadeva nel Settecento. E poi ha standardizzato l'utilizzo della bacchetta. Probabilmente avete visto delle bacchette di tutte le foge e di tutte le dimensioni. Fino a qualche anno fa, in particolare se avete visto, Toscanini spesso usava delle bacchette anche abbastanza grandi. Oggi la regola che si tende a utilizzare è che la lunghezza della bacchetta dovrebbe corrispondere alla lunghezza del proprio avambraccio. Quindi in questo caso questa è la mia bacchetta. Ma al netto di questo ci sono anche un sacco di buon temponi che hanno tanto, tanto tempo da perdere. Ma quindi come si fa a suonare tutti insieme, soprattutto quando l'organico è ampio? Il primo compito basico del direttore d'orchestra è quello di far cominciare l'orchestra a suonare tutti insieme. Allora, in un concerto rock il batterista suonerà una battuta vuota, cioè se siamo per esempio in quattro quarti, suonerà quattro colpi sul Charleston per far sapere alla band il tempo. Un, due, tre, qua, via! Qui attacca il brano, che è fatto in questo caso da quattro frasi uguali. Seconda fase. E adesso sentirete che quando c'è la nuova parte, il batterista suonerà ancora quattro colpi di Charleston per far sapere alla band il tempo. Questa è la quarta, attenzione! Qui c'è la nuova sezione. Un, due, tre, qua! In un gruppo di jazz si farà più o meno la stessa cosa, magari con qualcosa del tipo One, two, three, four. Quindi in sostanza avete visto che sia nel caso di un gruppo rock sia nel caso di un ensemble jazz, fondamentalmente cosa si fa? Si dà una battuta vuota. Cioè si sta dicendo ai musicisti, vi sto dando il tempo di una battuta vuota, regolatevi a suonare a questo tempo dalla battuta successiva. In musica classica fondamentalmente si fa la stessa cosa, la differenza è che raramente verrà data una battuta intervuota, perché la cosa verrebbe considerata un po' dilettantesca. Più che altro quello che si fa è accentare il movimento precedente all'ingresso. Quindi se siamo in quattro quarti, verrà preparato il quarto movimento e verrà dato appunto un accento, nel senso verrà particolarmente segnalata l'importanza del quarto movimento per far sapere a tutti i musicisti che sull'uno successivo si attaccherà. Quindi se il tempo è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 non si batteranno, si farà la preparazione del quarto, si darà il quarto movimento e poi si attaccherà. Una volta partiti c'è un altro problema che il direttore deve risolvere, cioè quello di andare tutti alla stessa velocità, anche perché raramente un pezzo inizia con un tempo e va avanti fino alla fine del pezzo o del movimento senza un qualche cambio di tempo, un ritenuto, un accelerando, appunto un cambio di tempo, un cambio di tempo che sarà appunto cura del direttore segnalare, in una maniera simile a quella che vi ho fatto vedere, per il nuovo tempo o per la nuova velocità. E a proposito di velocità, tanti dicono ma c'è scritto sullo spartito a che tempo bisogna andare? Sì, c'è scritto allegro, ma allegro cosa vuol dire? Vuol dire un tempo mosso, ma quanto è mosso quel tempo è proprio una delle decisioni che spettano al direttore. In certi casi ci sono anche delle indicazioni metronomiche estremamente precise da parte del compositore. Magari dice allegro 132, vuol dire che a metronomo si metterà a metronomo 132 e quello è esattamente il tempo che ha voluto il compositore. Ma detto questo, nessuno di noi ha un metronomo in testa, nessuno di noi sa perfettamente la differenza tra 132 e 131 magari. Ecco appunto che la figura di direttore serve a fare in modo che sia 132, che sia 131, che sia 130, ma comunque quello sarà il tempo che tutta l'orchestra dovrà tenere. Altra funzione, sempre molto basica al direttore orchestra, è quello di dare gli ingressi. Cioè non tutti gli strumenti suonano dall'inizio alla fine del pezzo. Gli archi mediamente suonano molto di più, ma i fiati suonano di meno e le percussioni generalmente, statisticamente parlando, suonano ancora di meno. Per cui mettiamo che un musicista abbia tante battute di aspetto, molte volte possono essere anche decine, anche magari più di 100 battute di aspetto. Sì, certo, può contarseli in testa, allora adesso una battuta vuota, due battute vuote, tre battute vuote, pensate che deve arrivare magari a contarne più di 100. Potrebbe perdersi, potrebbe sbagliarsi, potrebbe quindi entrare nel momento sbagliato. Ecco quindi che il direttore dà quello che si chiama l'attacco, cioè il musicista si dice praticamente qui, il punto in cui dovrei entrare è quando te lo segnalo io. Quindi superati questi problemi veramente basici della direzione orchestra, che è strano in realtà il ruolo principale del direttore orchestra è quello di prendersi la responsabilità delle scelte interpretative del brano che l'orchestra andrà a eseguire. E quindi strano lui che deciderà la gogica, la dinamica, il fraseggio e moltissimi altri parametri che non avremo oggi il tempo di approfondire. E quindi attraverso questi parametri il direttore trasforma le sue intenzioni musicali in qualcosa di tecnico che eseguito in quella maniera dall'orchestra farà avere il suono che il direttore vuole. L'applicazione ma soprattutto la combinazione di questi moltiplici parametri esecutivi fa in modo che un'interpretazione di un direttore sia diversa da quella di un altro. Ecco perché la quinta di Beethoven fatta la Karyan è diversa da quella che fa Bernstein è diversa da quella che fa Mutti è diversa da quella che fa Bado. altrimenti sarebbe fin troppo semplice dire ma è tutto scritto quello che devi fare allora le interpretazioni saranno tutte identiche assolutamente no. Quindi quello che vi ho detto sono i propri rudimenti della tecnica direttoriale per farvi capire esattamente a cosa serva la figura di questo signore in piedi sul podio davanti all'orchestra. Questa è la base dopodiché ovviamente ogni direttore sviluppa un proprio linguaggio gestuale personale che applica nei propri concerti. tenete presente però sempre una cosa molto importante la parte più rilevante del lavoro del direttore è quello che non si vede cioè quello che fa in prova. Ci vediamo la prossima volta.